Ok, siamo ancora una volta ai piani di bobbio e allacciamo gli scarponi. In questo primo video andremo a fare la pista numero 7, Baite, pista blu. E se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale in modo da essere informati su tutti i nuovi video che verranno caricati. E ricordatevi di cliccare anche sulla campanella di fianco in modo da ricevere le notifiche. E già che ci siete, continuidete sui social i video che preferite. Se volete, potete seguirmi su Strava in modo da avere tutti i dettagli sui giri che faccio. Volendo potete seguirmi anche su Instagram dove trovate foto e reel. E perché no, anche su Twitter. Vi ricordo che nelle descrizioni sotto al video trovate sempre i link a tutta l'attrezzatura che utilizzo. Andiamo a prendere la seggia via Fortino. Andiamo a prendere la seggio. Ok, sole già alto, anche se siamo tra i primi. Siamo a marzo. Qui una leggera spolverata di neve, ieri, probabile. Qualche praticello incomincia a intravedersi, nonostante la spolverata di ieri. Ma le piste mi sembrano perfette, al di là che qualcuno ci ha camminato abbondantemente con gli scarponi. Prossime sciate, in quel che rimane della stagione invernale. Mi piacerebbe farle su o Adalagna o Gressonei, comunque Monterosa a Schi. E poi mi piacerebbe andare a provare Cervigna. In una prima battuta direi, anche solo il versante italiano può bastare. Poi magari l'anno prossimo proverò a fare Cervigna Zermatt. Vediamo, vediamo. Riprese con GoPro Hero 11 in 4K 60fps Hyperview. Che è successo? Sì, sì. Un po' di prati ci sono, di là. Adesso stringiamo gli scarponi. Andiamo a scaldare le gambe sulla pista numero 7, Baico. Direi 10 jettio, della buone roba. Direi 10 gr ps e le gambe sulla pista numero 7, posso riuscire me. andiamo con la campagna a vedere com'è questo video è finito metti mi piace iscriviti al canale in modo da essere informato su tutti i nuovi video che verranno caricati guarda altri video ce ne sono di vari generi i video di questa giornata continuano ciao alla prossima